Ciao creatura, io sono Ecate Splendenti e benvenuta o bentornata nel regno di Kusai, A-S-M-A. Questa sera un altro video triggers perché ho visto che vi piacciono tantissimo, vi fanno un sacco rilassare e quindi ho sbucciato quella su YouTube perché io volevo fare dei video triggers a tema colori, però non so, l'hanno fatto tutti e poi dopo ho visto un video di Carlotta ASMR dove appunto faceva dieci colori, dieci triggers e ho detto bello mi piace questa cosa, poi dopo mi organizzerò per fare anche i triggers per colore, però prima volevo chiedervi tipo con quale colore volete che iniziamo e quindi siccome oggi ho un giorno di ferie, e allora ho pensato di approfittare a fare oggi un po' di video, infatti mi vedrete vestita uguale, però vabbè, nei prossimi video, sempre vestita uguale, capite perché? E quindi tutto questo spiegone per dire che non facevo in tempo mettere la storia su Instagram facendovi scegliere il colore, quindi adesso iniziamo con dieci colori, dieci triggers, saluto Carlotta ASMR, se poi altre artiste ASMR hanno fatto questa tipologia di video, scrivetele voi, scrivetele voi, giù nei commenti, così ci diamo tutti e nessuno si offende, è che io l'ho visto fare da lei e ho detto wow, voglio farlo anch'io, sicuramente userò oggetti diversi perché io ho tanti oggetti diversi dalle altre persone e poi giustamente è bello farlo con dei trigger diversi, ok? Ok, penso di aver detto tutto, possiamo iniziare? Iniziamo, 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 come lo dico? Iniziamo, mi fa ridere. Allora, non ho fatto l'arcobaleno perché mi mancano, cioè, mi sono accorta che a casa non ho oggetti viola che fanno suoni belli, rosa, è stato molto difficile trovare l'oggetto rosa per esempio, quindi, vabbè, ti lascio il video, vedrai, vedrai cosa ho scelto di usare. Va bene, non so adesso con quale iniziare, ma so che inizierò proprio con l'oggetto rosa, che poi è un rosa tra il rosa e l'arancione, dovrebbe essere rosa di base, però è rosa carne, rosa salmone esiste, no? Io lo vedo più su rosa che sull'arancione, quindi... Ah, e non ho oggetto arancione, avevo un oggetto arancione che era molto simile il suono all'oggetto che ho usato per fare, che userò per fare il rosso, e quindi ho scelto quello rosso. Voi più là mi piacerebbe anche fare, non so, 8 oggetti trovati nella mia cucina, oggetti del bagno, oggetti del salotto, ecco. Quindi poi farò votare a voi su Instagram, creatore, voterete quale... con quale volete sfidarmi, e io tenterò di rilassare con questi oggetti. Mi piace tanto il video. Chissà se riuscirò a farcela. Comunque ho deciso che mi metterò e comprerò la colla per le unghie finte e mi attaccherò le unghie finte. perché voglio fare anche dei trigger con le mani, cioè, fare del tapping con le unghie finte che sono bellissime, cioè perlomeno per me. Perlomeno per me. Perlomeno per me. Perlomeno per me. Ecco, l'ocetto blu. La palla, questa è la palla di Tiger a cui fai le domande, lei ti dà la risposta qui. Puoi leggere qui, allora. che sono delle risposte ovviamente random che mi dà questo per esempio dice sfortunatamente effettivamente sfortunatamente sono random e quindi chissà se la risposta è giusta con un po' il libro delle risposte dentro ha un liquido che è molto bello, sembrano un po' le onde del mare, non so qualcosa di triggeroso secondo me nel film si vedeva sempre questa sfera che era a forma di palla da biliardo l'otto nero di solito invece da Tyler hanno fatto così con la luna, le sterline però è un po' c'è una specie di dato però è a forma di triangolare, non so e si incastra quindi per esempio adesso non dice nulla, sparisce la risposta adesso invece da cambiamenti non sono positivi o cosa del genere ancora sfortunatamente cioè mi parla capito? io faccio dei discorsi con Tyler intanto mi sta parlando però si bugga perché tipo adesso dice consultami più tardi vabbè ho capito? vabbè il mio oggetto è già stanca di fare il suo trigger ho preso l'unica palla, cioè se mi sto regalata tra l'altro l'unica palla che non c'ha voglia di fare il suo dovere comunque andiamo con un bel colore caldo ovvero il giallo non ho altri oggetti gialli tranne che questa confessione di te Lord Nelson lo sto facendo a pubblicità perché il tè dell'itele e questo non lo piove io comunque se ti stai chiedendo ma adesso piove anche il tè? no, non è vero però al lavoro mi prendo sempre la cioccolata calda dato che mi era piaciuto il tapping sulla scatola della tisana solo che ha tanti colori invece questa è prevalentemente gialla e quindi è perfetta come scelta per questo video bene? no, no, non è vero Grazie a tutti. Mi piace questo tipo di tapping, c'ero perché a parte che non ho le unghie per fare quello, ma danno un po' l'ho, le avrò e mi ricorda anche un po' la pioggia. Poi, 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 ho scelto il colore argento, o grigio, vedi lo come vuoi, io devo dire argento perché mi piace di più, più silver. Sì, più silver, cosa mi pensi? Le forbici, che sono soprattutto questo paio perché mi è stato addonato, effettivamente, da un barbiere che ha chiuso. E sono proprio originale, quindi, senti, di un vecchio negozio di barbiere. Sono proprio quel suono che sentite da bambino. Rifarò un altro video con il 3D, dove tipo rucchiere perché me lo chiedete sempre nei messaggi privati, su Instagram. Perché quelli che ho fatto, mi sono piaciuti tanto. Non li ho fatti tanti. Ho fatto la barrucchiera strana, potrei fare la barrucchiera antipatica. Oppure, cosa... Cosa potevi fare, credo? Che è una roba semplice. Questo solo ti faccio i suoni. Sì, è una roba semplice. ok poi come altro colore ho scelto il colore marrone dato da questo nostro adesivo per pacchi, fa un po' di scratching e anche un po' di come si chiama? solo piccicolo, sticky, sticky sound l'altra parte ho scelto quando perde la potenza dell'appiccicume non so cosa vuol dire quando diventa meno appiccicoso sono in poche parole detto in italiano normali, semplice e fa un suono più gradevole quindi vai pianissimo oppure io di solito faccio perdere un po' facendo così faccio un po' perdere la colla non so se a te la creatura piace questo suono o a me piace? c'è come un gioco io che è sottolinea la sensazione di questo nostro che si appiccica, si spiccica non so parlare oggi mi piace fino a che arriva un certo punto dopo probabilmente questa parte avrà molti danni ho tutto un altro effetto ma questo qui lento è difficilato trovo che non mi piace la parte finale trovo che non mi piace la parte finale me l'ho pieno, vado lentissimi, si, si così è stato bello mi sto tovendo a prendere la sua adesso andiamo con quale oggetto, quale oggetto, quale oggetto questo azzurro che mi dirai, beh ma qual è quello rosa? no, in realtà suono differente perché questo suono molto più tenue azzurro che Oh, secondo me sono diversi, poi non so, lascio giudicare a te, creatura. Si può anche appoggiare, 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 sì, ho detto appoggiare, la prima volta l'ho detto appoggiare, perché mi piace il suono di appoggiare, e ieri mi hanno trovato un nome, una parola tricherosa, non me la ricordo più, è piccatonante, è piccatonante, è piccatonante, è piccatonante. è piccatonante, è piccatonante, è piccatonante. E poi, 10 colori, 10 trigger, sto facendo più di 10 trigger, sì ho 9. Questo mi sa di un massaggio alla testa, bellissimo. Poi, come altro colore, vi propongo, ti propongo, creatura. Ebbene sì, ce l'ho anche io, il gelatino squishy, ovviamente ce l'ho verde, ma profumo sì, ma non credo che faccia lo stesso suono del gelatino squishy originale, perché, in realtà, la prima volta che l'ho visto usare, è stato proprio da Carlotta ASMR, è lei che ha dato il via a tutto. Però, non è, è la calamità, l'ho preso su Aliexpress, ma non, è piacevole, ma non so, o sono io che non so usarlo bene. Ma, secondo me, non ha la consistenza di com'è quello suo. Per quello nei video non l'ho mai quasi usato. Prima siamo sia strusciata e mi lasciati bene, non so se si vedono, perché è un po' sticky, sticky, sticky. Sono dei suoni, mi piace quando lo strisce, ma non fa lo stesso per il suono mio. E quando lo scraccio, faccio scratching, lo scraccio poi, quando faccio scratching su questo, sarà che non lo riunchi, ma non lo so, non mi sento... Cosa dici, creatura? A te piace? Questo è ciò che sto facendo. Poi, 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 ho scelto questo per il colore nero. Che accompagna molto nel mondo dei sogni, anche se per ultimo ho lasciato il trigger che secondo me è perfetto per andare verso proprio il regno dei sogni. Quindi, passare dal regno di cosa e al regno dei sogni, senza nemmeno accorgertene. Andiamo a tutti. Per quanto mi riguarda Questo suono è davvero ipnotico Colore bianco Per quanto mi riguarda Per quanto mi riguarda Per quanto mi riguarda Andiamo col colore rosso Rosso queste rose Vabbè c'è il nero ma non guardiamo Guardiamo rosso Un suono bellissimo I fiori finti Fanno un suono stupendo E' un suono che non è né stoffa Né carta né plastica Ma ho misto di entrambe E' un suono E' un suono che Quindi io ti saluto Creatura ti lascio andare Nel regno dei sogni Accompagnato da questo suono E' un suono che E' un suono che E' un suono che Ti auguro Buonanotte Buonanotte Buon relax Ciao Creatura Buon relax